A fine giugno avremo un evento straordinario, la Power Conference. Sarà con noi Andres Bisoni dagli Stati Uniti d'America, un uomo che Dio sta usando in modo potente, con segni e prodigi. Saranno tre giorni speciali. Vai sul nostro sito equipers.it, registrati subito, perché i posti sono limitati. Io mi aspetto grandi cose e soprattutto mi aspetto di vedere anche te. Verranno persone da tutta Europa, non solo dall'Italia. Affrettati a prendere il tuo posto e vieni a sperimentare la potenza di Dio e la bellezza e l'amore della grazia dello Spirito Santo.